Ciao ragazzi, buonasera, volevo presentarvi gli ultimi acquisti di questa settimana, non saranno immagino gli ultimi dell'anno perché deve arrivare ancora delle cose da home movies, spero che l'amico Giacomo riesca a spedire, non per colpa sua, ma per i corrieri esteri quello che mi doveva arrivare, ma ci tenevo a fare questo video innanzitutto per augurarvi un buon Natale a tutti gli amici appunto del canale, ma anche perché questi pochi acquisti che sono arrivati li ritengo di livello per accelerare un po' i tempi, perché ho poco tempo oggi, ho preferito già aprirli, quindi alcuni li ho anche già fotografati ma ve li vado a presentare, diciamo, anche qui nel video il primo acquisto è The Killing Beard Zombie 5 di Joe D'Amato il film ho letto in rete, non lo conosco, ho letto in rete che non è niente di eccezionale ma ho preso questa edizione perché la trovo davvero molto bella vedete questo è il disco, edizione della 18-8 da collezione abbiamo il nostro bel poster tutta ottima qualità devo dire, ormai anche la 18-8 ha davvero uno standard qualitativo davvero alto ovviamente come ci ha abituato ormai copertina reversibile che richiama appunto, le due copertine richiamano le due facciate del poster edizione con gli extra curati dal nostro amico Eugenio Ercolani che accolgo l'occasione per salutare e niente, poi abbiamo anche un bel booklet anche questo qualitativamente eccezionale consiglio all'acquisto ripeto, il film non l'ho visto non ne ho sentito parlare bene ma in una collezione a mio avviso un'edizione del genere non può mancare anche per chi come me tende a collezionare tutto un po' quello che è il b-movie italiano e niente, passiamo al prossimo il truci dello sbirro edizione della Fractured Vision inglese questo qui io avevo già l'edizione Media Book tedesca ho voluto prendere questa perché ci sono anche qui, sembra più extra e curati da Eugenio abbiamo sei cartoline con le fotobuste scusate se sto andando un po' di fretta ho poco tempo perché devo iniziare a lavorare di nuovo dopo sto facendo questo video nello spacco ci tenevo a farvi gli auguri se l'avrei rimandato direttamente alla prossima poi abbiamo anche un booklet devo dire è il primo acquisto che faccio di questa etichetta anche se sono usciti altri titoli ora non ricordo non moltissimi ma devo dire che qualitativamente mi ha impressionato favorevolmente ok questa è la serigrafia del disco diciamo che adesso sto cominciando a fare un po' a mio avviso troppi doppioni tra tedeschi e inglesi altro acquisto Media Book di Il Portiere di Notte di Liliana Cani edizione Media Book 4K abbiamo il solito booklet interno delle Media Book edizione tedesca questa è della watching vi dico watching witched mi perdonate mi vision a blu-ray e dvd l'italiano non è presente su nessuno dei dischi ci sono soltanto delle interviste negli extra in italiano extra anche qui curati da Eugenio Ercolani ho ordinato per averlo in lingua italiana il dvd fuori catalogo uno strano su ebay dovrebbe arrivare settimana prossima però ho visionato già il film su Amazon Prime tra l'altro soltanto in lingua inglese è sottotitolato gli extra li ho visti da qui è assolutamente un'edizione da avere purtroppo manca l'italiano ma dobbiamo accontentarci questo è il nostro mercato ultimo acquisto arrivato poco fa proprio la collina degli stivali con Bud Spencer e Terence Hill questa qui è un'edizione Media Book c'è anche il cd della colonna sonora il solito booklet anche qui molto curato questa è Coach Film ok e abbiamo mi sembra tipo 5 versioni del film tra cui una Super 8 ovviamente è presente l'audio italiano non so in quante versioni delle 5 extra non sembrano essercene molti però la trovo davvero ben fatta tra l'altro questa c'è una variante con la copertina rossa sul sito loro tedesco ufficiale ma io ho preferito prenderla da Amazon perché ultimamente preferisco non imbattermi in siti stranieri un po' per le spedizioni un po' per altre cose mi scoccia un po' l'edizione con la copertina rossa se volete vederla vi invito ad andare sul canale del mio amico Dottor Loomis lui ha preso quello ha fatto anche l'unboxing niente per questa settimana non è arrivato altro ci tenevo comunque a presentarveli perché comunque li ritengo acquisti degni di presentazione giusto anche per chi come me colleziona come dicevo prima i b-movie italiani ma non solo perché comunque c'è il capolavoro il portiere di notte insomma sono edizioni estere quindi fatte bene ci dispiace sempre che non siano fatte per il nostro mercato ma sono cose che non cambio né io né nessun altro noi più di sostenere il mercato quando escono le edizioni nostrane non possiamo fare ovviamente vi lascerò i link in descrizione vi auguro di nuovo un sereno Natale a tutti a chi mi segue sui vari social e anche appunto sul canale niente vi auguro anche una buona serata un buon fine settimana ci rivedremo per fine anno con gli altri acquisti e con gli auguri di fine anno appunto mi raccomando se vi è piaciuto il video mettetemi like iscrivetevi al canale vi chiedo ancora scusa per la celerità e per qualche errore ma giusto perché veramente non ho proprio tempo quindi è stata diciamo una cosa veloce infatti come vedete ho già aperto tutto per guadagnare un po' di tempo e niente ancora ciao a tutti ciao 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 ciao